Mi ha riempito di coloratissime brochure di cliniche, di sicuro tutte approvate dalla FDA. Cosa c'entra Deadpool con un video di Jonathan che teoricamente dovrebbe parlare di trading? Te lo spiego subito. Prima di tutto chi è Deadpool? Abbiamo usato questo piccolo intro per introdurre l'argomento. Comunque Deadpool è uno dei supereroi dell'universo Marvel. È un ragazzo affetto purtroppo da una brutta malattia che viene sottoposto a una cura sperimentale per cercare appunto di sconfiggere, secondo lui, questo è quello che lui credeva, questa malattia, in realtà viene sottoposto a un esperimento e apprende dei superpoteri e quant'altro. Quello che ci interessa però è la frase che Ryan Reynolds, l'attore che appunto interpreta Deadpool in questo film, pone, dice, al barista. Ossia sicuramente saranno tutte approvate dall'FDA. E qui cascalasino, entriamo nel vivo dell'argomento. Ossia l'FDA, la Food and Drug Administration. E anche qui potresti chiederti che c'entra l'FDA in un video che teoricamente dovrebbe parlare di trading, dovresti parlarmi di candeline, di volumi, di indicatori, di strumentini. No. Ti parlo di quello che è un grossissimo componente nel mio processo quando vado ad operare nel mercato small cap su determinate azioni. Le azioni che fanno capo al settore farmaceutico. Perché la Food and Drug Administration, l'FDA, è un organo di controllo americano, un'agenzia, chiamiamola così, che si occupa appunto di cibo e di tutto quello che è associato a dispositivi medici, farmaceutici e quant'altro. Si occupa appunto del controllo, della vigilanza e dell'approvazione di eventuali farmaci. Ecco perché Deadpool chiedeva, anzi si chiedeva tra se e se, e beh si saranno tutti approvati dall'FDA. Perché l'obiettivo dell'FDA, anzi lo scopo dell'FDA, è quello appunto di andare a controllare le fasi di sperimentazione di un farmaco. Infatti ora vedremo cosa fanno le aziende farmaceutiche negli Stati Uniti. e poi andare a controllare ovviamente l'efficacia di questo farmaco e magari eventualmente la messa in commercio. Ora, perché questa FDA è così importante? Prima di tutto l'FDA è uno delle, anzi è la notizia principale per tutto un settore intero del mercato small cap, ma non solo in realtà del mercato azionale americano, il settore appunto healthcare, il settore delle biotech per esempio, il settore delle aziende farmaceutiche, grandi o piccole che siano. Ok? Perché? Perché l'approvazione o comunque notizie riguardanti l'FDA rispetto a un prodotto, un farmaco che queste aziende stanno testando, sperimentando e quant'altro, può nel caso delle aziende small cap veramente significare la vita o la morte di quell'azienda. Per esempio ora, magari mi aiuteranno mettendo della video, puoi vedere come l'approvazione o in questo caso specifico anzi, la non approvazione di un farmaco che era in attesa di approvazione, può letteralmente causare il crollo verticale delle azioni. E questa è qui una roba molto importante. Ti faccio ragionare su una cosa e lo faccio in modo preciso andando a vedere un post che abbiamo pubblicato su Instagram, quindi seguimi su Instagram e mi trovi come Jonathan Jamo. Comunque ti faccio vedere. Considerando l'anno, abbiamo preso un anno a casa, l'anno 2018, ok? Ci sono state circa 688 richieste di approvazione di nuovi farmaci. Quindi che significa questo? Azienda farmaceutica, azienda biotech, small cap, quindi un'azienda con una capitalizzazione di mercato sotto i 2 miliardi, un'azienda piccola, che magari non ha ancora nessun farmaco approvato, come vedremo, e che quindi sostanzialmente non ha nessun prodotto da andare a vendere. Capisci quanto la notizia, l'FDA, quanto l'FDA, quanto la notizia di una possibile approvazione diventi impattante per questa azienda, perché gli permetterebbe di avere un prodotto da vendere oppure di non avere più nulla tra le mani, di sgretolarsi e di rimanere in un'azienda con tante belle promesse, tanti paroloni, ma poco fatturato, ok? Comunque, 688 richieste di approvazione fatte da aziende farmaceutiche, biotech, quello che vogliamo, all'FDA, solamente 59 hanno ricevuto approvazione. 268 le richieste, 59 hanno ricevuto approvazione. Parliamo dell'8% delle richieste. E si stima che soltanto il 33% delle nuove sperimentazioni riescano a passare la fase 2 di ricerca. Ci sono diverse fasi di ricerca, fase 1, fase 2, fase 3, poi c'è la messa in commercio e quant'altro. Ora, ti faccio ragionare su una cosa. 688 richieste significa sostanzialmente, potenzialmente, 688 non è proprio così, perché ovviamente un'azienda può proporre diverse, però facciamo una stima. 688 che ha 500 nuove aziende small cap che vanno a fare una richiesta di approvazione all'FDA, quindi uscirà una notizia, ok, che porterà volatilità al titolo. Perché questa cosa è una cosa fondamentale. Nel settore small cap le azioni biotech, ok, queste azioni che vanno a cercare di sviluppare vaccini, cure e quant'altro, sono quelle più volatili di tutte in assoluto, ok? E quando esce una notizia, Farmaco X sta dando buoni risultati, Farmaco X potrebbe avere l'approvazione FDA, fase 1 passata e quant'altro, è ovvio che si genera un'attenzione enorme. Ma qui siamo a un bibio fondamentale. Chi sta su questo mercato senza processo e lo sta facendo come se giocassi alla lotteria, e chi è invece su questo mercato con un processo. E guarda come ragionando sui dati dell'FDA, già di base, e poi ci sono tutta una serie di fattori ulteriori, ma già di base si può andare a avere un vantaggio pazzesco. Io già so che di tutte queste 688 notizie che vedrò uscire durante l'anno, soltanto una cinquantina si rivederanno vere e quindi quel titolo avrà potenzialità per salire. Tutte le altre, secondo te, che fine fanno? Nel momento in cui esce la notizia che l'FDA ha bocciato l'approvazione del farmaco, oppure in realtà esce prima la notizia che il farmaco non ha trovato dei riscontri nei testi, i testi non sono stati brillanti, i testi non hanno portato a risultati, esce questa notizia, cosa succede al titolo? Succede che il titolo crolla, letteralmente ho visto meno 80% in un giorno, e che tutti quelli che hanno comprato il titolo oggi, perché hanno visto la notizia, abbiamo chiesto l'approvazione dell'FDA per il farmaco X che curerà la malattia Y. Di solito sono assolutamente titoli super altisonanti, che sarebbe anche bello poterci credere che potessero riuscire a curare queste malattie, ma sappiamo com'è lo schema. E quindi chi ha comprato il titolo sulla base di quelle notizie, e sperava che la notizia successiva potesse essere farmaco approvato, oppure fase 2 passata, fase 3 passata, farmaco approvato. Invece si ritrova con i numeri nudi e crudi, l'8% di queste richieste passa tutto il resto e destinato a morire, si ritrova intrappolato in una posizione in acquisto col prezzo che crolla. Io cosa faccio invece? Io so e gioco soprattutto sulle probabilità che questo tipo di situazione si verifichi, perché si verifica. Se l'8% viene approvato, vuol dire che il 92% non viene approvato. Di conseguenza io so esattamente che molto 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 spesso le aziende farmaceutiche, che sono le prime, aziende farmaceutiche small cap, queste biotech, che sono le prime che sanno che molto probabilmente il farmaco non sarà approvato a breve, cosa faranno? Sfrutteranno l'enorme volatilità, l'enorme liquidità, l'enorme volume che si genera sul titolo dovuto a quella notizia, per fare cosa? Per fare lo step 2 del mio processo, sia andare a finanziarsi col mercato. Perché sanno, perché sanno, che il farmaco molto probabilmente non sarà approvato, o che ci vorrà ancora tantissimo tempo, però intanto sfruttano il fatto che il loro titolo è passato da 2 dollari a 9 dollari nell'arco magari di due giorni. Loro hanno la possibilità di raccogliere assolutamente capitali dal mercato attraverso dei moduli che vengono depositati da SEC, trovi tantissimi, tantissimi, tantissimi esempi nel canale YouTube al quale ti invito a iscriverti dall'alto Trading Pro Academy, e vanno a raccogliere soldi. Con questi soldi che se ci faranno porteranno avanti la ricerca, porteranno avanti tutte le loro spese, avranno cash che potranno usare per sopravvivere. Quindi l'FDA è un tassello importantissimo di questo settore del small cap, perché poi azioni di small cap ci sono in tutti i settori ovviamente, l'FDA è importantissimo e fondamentale proprio veicolo di volatilità, liquidità, range, momentum nel settore delle biotech, delle aziende che sviluppano farmaci o presidi medici o insomma tutto quel tipo di prodotti. Esempio palese, clamoroso, è stato il periodo che abbiamo appena ci siamo forse lasciati alle spalle di pandemia, dove sono successe delle cose pazzesche. E a tal proposito ti invito, se vuoi che ti racconti qualche storia clamorosa, qualche mega scam che c'è stato durante la pandemia con aziende che hanno sfruttato quel momento per veramente finanziarsi all'infinito, piuttosto che qualche storia di azione veramente particolare che c'è stata durante la pandemia, scrivilo nei commenti perché ti preparo un video apposito e ti farò slocare la mascella nel dire ma com'è possibile che questa roba si può fare? Non è possibile e invece lo fanno tutti i singoli giorni. Quindi iscriviti al canale così non ti perdi neanche un video, scrivi nei commenti se vuoi appunto che ti prepari questo video su queste azioni clamorose che ci sono state, questi movimenti e queste situazioni clamorose che ci sono state durante la pandemia. Ci vediamo al prossimo video.